40 le vittime che oggi vengono ricordate con una messa a suffragio nella chiesa di Monteforto Erpino. Famiglie che ancora oggi attendono giustizia per una tragedia che non conosce precedenti. Oggi, in fondo a quel precipizio divenuto simbolo della strage, ci sono fiori, foto e tanti ricordi di coloro che non hanno più fatto ritorno a casa da quel viaggio religioso. I pellegrini, tutti provenienti da Pozzuoli, erano di ritorno da Pietrelcina. Oggi, tra i dossier della procura, c'è una ricostruzione viva dell'incidente. Un video effettuato dalla polizia stradale che servirà agli atti del processo per cercare di capire cosa veramente è accaduto quella sera. Dalle immagini si vede che il bus, giunto poco prima del viadotto, in un tratto leggermente in discesa, ha perso il controllo a causa di un guasto al sistema frenante. L'autista, cercato in tutti i modi di fermare il pullman, ha anche tirato il freno a mano, ma oramai era una scheggia impazzita. Ha urtato il muro di contenimento, poi ha percorso la corsia di emergenza cercando in tutti i modi di bloccare il mezzo. Dopo 800 metri, ha urtato prima delle auto che lo precedevano, ha sfondato il guardrail del ponte e poi è precipitato nel vuoto nel tratto autostradale tra Monteforte e Baiano. Un volo di 30 metri fu una strage, solo nove di loro si salvarono. Fu la notte più lunga della storia, soprattutto per i soccorritori, che hanno dovuto estrarre i corpi dal pullman, posizionarli nelle bare per il riconoscimento. Al momento sono 15 le persone indagate, nel mirino ci sono le barriere di sicurezza che, secondo la procura, non erano a norma. Dall'altro canto c'è il pullman e la sua scarsa manutenzione. Il pull di magistrati guidati da Cantelmo ha accertato che il mezzo viaggiava con un'attestazione fasulla. Qualcuno lo aveva autorizzato a circolare, nonostante non avesse mai effettuato la revisione.